Ciao a tutti, mi chiamo Enzo De Rosa e sono originario di Napoli, in Italia. Sono pianista e compositore. Da quattro anni vivo in Canada, a Montreal, una città multiculturale aperta alle più incredibili esperienze artistiche. La tolleranza è la forza che ci tiene legati tutti insieme, dove la tolleranza non è sopportazione. È una sfida con se stessi per aprirsi a mondi diversi e uscire dal proprio ego. La musica è una maniera di avvicinare bellezze di mondi differenti. Sono molto felice di partecipare al Journey of Skeleton. Mi dà la possibilità di conoscere altre artisti che come me cercano l'ispirazione e la bellezza attraverso il confronto e la collaborazione. Aspetto anche voi a Journeys of Skeleton. Aspetto anche voi a Journeys of Skeleton.